E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che commentiamo anche le partite di Qatar 2022, facciamo un hub di analisi sulle partite della giornata o delà del mainstream e delle vicende, quindi devastate di mi piace, condividete, guardatevi anche i video fatti sia di calciomercato che l'Italia ieri recuperate. Quest'oggi andiamo a commentare assieme le partite che ci sono state, ci sono state tre partite, andiamo in ordine temporale, dalla prima fino all'ultima e facciamo un hub di discussione anche nei commenti, vi aspetto rispetto a quello che dirò. Allora, iniziamo da Inghilterra a Iran, allora io adesso vedo che ci sono già dei trionfalismi, delle devastanze dicendo che l'Inghilterra è la grande favorita, che hanno giocato, sì ho visto dei bei gol, ho visto delle belle azioni, però onestamente vi dico la verità, è anche una partita che non ho visto, perché il livello dell'avversario mi faceva presumere che la partita sarebbe andata così, cioè l'Iran, ragazzi, con tutto il rispetto, ma è una nazionale assolutamente, che rende ingiudicabile per me l'Inghilterra all'85%, 90% di quella che è stata la partita. L'Inghilterra sicuramente ha dei buonissimi valori, dei buonissimi giocatori, ha anche una squadra veloce, una squadra qualitativa, questo nessuno lo mette in dubbio, però prima di lanciarmi voglio vederla giocare contro avversari di livello un po' più alto, non ne ha tantissimi in questo girone, va detto, sicuramente è una squadra che noi aspettiamo agli ottavi e quarti per farsi un'idea, diciamo, della pasta e foggia dell'Inghilterra. Oggi ha giocato veramente contro un avversario che io veramente ridurrei la partita ad un esordio piuttosto comodo e poi vediamo più avanti. Vengo invece a una partita che è stata più interessante, che ho visto, cioè Olanda-Senegal, e anche qui ho visto che molti si sono lamentati dicendo l'Olanda ha giocato male, una brutta Olanda, un'Olanda che non meritava, ma allora io in questo intanto darei merito comunque al Senegal, che si vede che è una squadra che ha anche fatto una partita difensivamente piuttosto apprezzabile, specie i due centrali, una squadra comunque il Senegal che è campione d'Africa, non è che giocassero contro nessuno, che due o tre individualità ce l'ha, squadra però il Senegal che al di là delle cappelle del portiere, che pure sì, più sul secondo gol, perché sul primo è stato bravo anche Gakpo per me ad anticipare e a fare l'azione, poi sicuramente anche sul primo Mendy era meglio se magari usciva un po' prima e anticipava, però più sul secondo sono sue responsabilità. Il Senegal è mancato in cosa più che altro? È mancato un po' nella dipanata offensiva, cioè era una squadra che si vedeva che davanti era senza un cervello organizzatore, senza qualcuno che anche accentrasse, incuneasse la manovra, è una squadra che senza manè è mancata un po' di acume, intesa sia come la capacità, l'idea di sapere che cosa fare quando hai l'opportunità di rovesciare il fronte, sia anche qualcuno che te lo facesse fare per vie centrali, e in questo capite bene che manera è essenziale, quindi un po' quell'assenza si è sentita, però è un Senegal che per me contro le altre può organizzarsi, magari organizzandosi con uno schema che questa centralità la possa favorire, perché il 4-3-3 che ho visto tendeva veramente molto ad allargare il gioco in fase di contropiede, magari cercando di sfruttare un po' più le vie centrali, se non a livello tecnico, quantomeno a livello tattico, quando hai la palla, può essere un po' una soluzione, perché il Senegal oggi ha avuto qualche occasione, ha avuto anche delle soluzioni in ripartenza, ha fatto anche il primo tempo, il Senegal la partita per certi versi l'ha fatta, però mancava sempre qualcuno in area che organizzasse, che gestisse bene gli esterni, anche Diallo, fin tanto che è stato in campo, interessanti spunti da parte di Ismail Assar, un po' assente il centrocampo e ripeto, un po' assente la fase centrale da centrocampo in su, quella è stata un po' mancante, però sull'Olanda in altrettanto io mi sento di dire che attenzione a sottovalutarla, perché quest'Olanda qui magari non è un'Olanda as we know it, non è l'Olanda del bel gioco, l'Olanda perché non ha neanche interpreti da gioco fascinoso, da gioco ridotto, è una squadra molto più tedesca che olandese, mettiamola così, è una squadra intensa, una squadra da strappo, non a caso Van Gaal ha continuato per certi versi l'idea della difesa a tre, è una squadra elastica, ma è una squadra per me che, attenzione a Van Gaal, Van Gaal non è assolutamente un allenatore scemo, anzi in questi contest qui, in queste situazioni, è uno che il fatto suo lo sa e anzi è una squadra che da questa, se questo tipo di interpretazione, se questo tipo di caratteristiche magari un po' meno estetiche, un po' più concrete, vengono acuite da una grande determinazione che Van Gaal può dare, dalla concentrazione e dalla solidità, queste sono cose positive, poi certo magari non è l'Olanda di Cruyff, non è l'Olanda degli olandesi volanti, sì per carità, ma è così da qualche anno, è una squadra più tedesca, diciamo è una squadra un po' diversa, una squadra magari un po' meno estetica, ma che può trovare convinzione ed efficacia, che può trovare convinzione ed efficacia, e poi gli interpreti per la giocata ce li hanno pure, gli interpreti per la giocata ce li hanno pure, non è sicuramente l'Olanda dei primi anni 2000, non è l'Olanda del 2010, non è l'Olanda degli anni 80, 70, 90, neanche no, un'Olanda diversa, un'Olanda più teutonica, un'Olanda più tedesca, ma che è interessante e non ci sputerei così sopra, specialmente conoscendo Van Gaal. Poi veniamo alla partita di stasera, che io apro parlando della telecronaca di rimedio, c'è sempre questa cosa di dover sempre parlare l'arbitro, i metodi, ha detto l'arbitro parla troppo con i giocatori, c'è un indice magari di pa... Che cazzo se ne frega di quel... Poi anche la lettura delle partite non mi trovo. Io dico viva Bizzotto. Bizzotto sta al commento Rai come il Sutirol sta alla Serie B, uguale competenza. Quindi dati, io voglio Bizzotto e Adani, che parla del vulcano Picincia. Ecco, voglio tutte le partite commentate da Bizzotto, se le deve fare tutte. Tutte le partite con Bizzotto, tutta la notte, Bizzotto e Adani. Tutta la notte, Bizzotto e Adani. Voglio loro due, non mi rompessero i coglioni. Va bene, quindi Telecronica non mi è piaciuta, però partita discreta. E vi devo dire la verità. Allora, parto dal Galles. Ora, in molti per questo pareggio qui magari rivaluteranno il Galles. Io invece dico che il Galles mi ha deluso stasera, no? Anche in cronaca si è fatta molta enfasi sul fatto che la partita l'ha cambiata Moore del Galles, no? E i cambi degli Stati Uniti. Ma anche lì è una lettura per me parziale. Allora, molti cambi, intanto gli Stati Uniti hanno dovuto farli, tipo quello di McKennie, perché non stava bene. Ma poi è ovvio che chi è entrato negli Stati Uniti non fosse magari a livello, specialmente a centrocampo, di chi è uscito, per esempio, no? Se no, banalmente, penso che avrebbero iniziato la partita, visto che era una gara fondamentale. Ma non è che i cambi sono arrivati a caso. I cambi sono arrivati perché per la partita che avevano fatto gli Stati Uniti nel primo tempo avevano speso molto, perché avevano giocato nettamente meglio del Galles. Ma soprattutto la cosa che ha fatto la differenza più grande poi a posteriori è che il Galles il primo tempo ha fatto schifo. Cioè il Galles ha iniziato la partita con una tattica e un modo anche di scelta e di gestione dei giocatori, che era assolutamente insufficiente. E se io fossi tifoso gallese sarei molto arrabbiato stasera, perché il Galles è entrato in campo quasi a difendersi, è entrato in anzi, è entrato a difendersi e quasi a difenderlo 0-0, a cercare la ripartenza, a cercarla speculata. Ma tu sei una squadra che con gli interpreti che hai, cioè non è che stai giocando contro la Francia, contro, che cazzo ne so, contro la Germania, che allora dici, ci sta che io possa avere una tattica un po' più attendista e vedo cosa riesco a fare con i velocisti in contropiede. Ma stavi giocando contro gli Stati Uniti, che hanno due o tre buoni giocatori, però per me la tattica, l'approccio doveva essere completamente diverso. Nel secondo tempo il Galles si è reso conto di questo, ha accelerato un po' i ritmi, la partita è cambiata totalmente. Ma non è che è cambiata per le sostituzioni, o solo per le sostituzioni, o perché le sostituzioni del Galles sono state migliori di quelle di lui. Sono cambiate perché il Galles ha dovuto, gioco forza, iniziare a giocare, perché prima non l'aveva mai fatto e questo è grave. E questo è grave e andava comunque sottolineato, secondo me. Ed è gli USA, vi dico la verità, non mi sono dispiaciuti gli USA. Gli USA, il primo tempo, hanno fatto un'ottima partita, meritavano forse qualcosa anche di più. Penso a me è piaciuto molto il centrocampo degli Stati Uniti, è lì che stavano vincendo la partita. Mi è piaciuto molto il capitano Adams, mi è piaciuto molto Musa, ma mi è piaciuto anche molto Robinson in difesa, mi è piaciuto anche l'altro difensore, come si chiamava. Aspettate che guardo. Rim, Rim, mi è piaciuto molto. Poi Zimmerman ha fatto la cappella, ma Rim per me ha giocato una buonissima partita. Paradossalmente è una gara questa nella quale hanno un po' steccato le grandi stelle, specialmente negli Stati Uniti, ma hanno giocato bene. Ho visto una nazionale statunitense, comunque che dei concetti di gioco semplici, per carità, perché non hai visto delle grandissime sovrapposizioni, delle grandissime giocate, ma due o tre concetti semplici di schema, di aggressione, di riaggressione, di triangolazione, li ha messi in mostra, è la nazionale statunitense, ha messo in mostra una discreta organizzazione, meritava forse di più per me, anche per punire un po' quello che è stato l'atteggiamento del Galles, che non mi è piaciuto. Ditemi cosa ne pensate voi, un caro saluto.